La trattativa per il personale scolastico, che è all'interno del comparto istruzione e ricerca, perché non è solo questo contratto, non riguarda solo il personale della scuola, sta proseguendo. Noi stiamo cercando di fare dei tavoli settoriali per andare a vedere gli ordinamenti dei vari settori, di compreso quello della scuola. C'è un problema di risorse finanziarie che i sindacati in generale hanno ritenuto non sufficienti, quelle già stanziate e stiamo cercando di capire se c'è la possibilità di modificare la destinazione di alcune risorse e questo lo può fare questo governo. Per quanto riguarda la necessità di ulteriori risorse, certo bisognerà aspettare il nuovo governo e perciò la nuova legge di bilancio. Però noi nel frattempo continuiamo le trattative in maniera abbastanza serrata per cercare di chiudere nel più breve tempo possibile. È una trattativa molto complicata che riguarda non solo il personale della scuola, come ho detto prima, ma altri settori fondamentali come l'università, la ricerca e l'alta formazione. Certo che è auspicabile filmarlo entro il 31 dicembre. Uno perché così sarebbe completo tutta la tornata contrattuale, che abbiamo fatto, questo è l'ultimo contratto che dobbiamo firmare addirittura nel 2019-2021, perché questo contratto è riferito a quegli anni. Io mi auguro che se risolvono il problema delle risorse noi riusciamo a firmare questo accordo entro la fine dell'anno, almeno l'ipotesi di accordo. Poi il contratto va approvato dal MEF, dal Ministero di Economia e Finanze, dalla Corte dei Conti e ovviamente nel 2023 esplicherà tutti gli effetti. C'è stata un po' di confusione. Noi abbiamo presentato un testo perché nel precedente contratto non era prevista la sezione che riguardava i provvedimenti disciplinari, abbiamo fatto semplicemente una proposta. Ovviamente questa proposta non è stata accettata da nessuna delle organizzazioni sindacali, questo non vuol dire che c'è da parte nostra né il fatto di insistere, dobbiamo trovare un punto di mediazione e vedere quale sia lo strumento migliore per introdurre ovviamente all'interno di questo contratto quali sono i procedimenti disciplinari e non farlo disciplinare dalla legge. Questo non vuol dire che saranno i presidi, non vuol dire che saranno gli infugi scolastici, dobbiamo trovare un accordo con le organizzazioni sindacali, così si fanno i contratti. Perciò quella è stata una nostra proposta, la prima proposta che abbiamo fatto su questo tema e se riusciamo a trovare con il confronto con le organizzazioni sindacali una situazione di mediazione riusciremo sicuramente a introdurre all'interno di questo contratto una sezione necessaria.